Gestione dell'acqua, emergenza, ungulati e dare valore alle produzioni agricole. Questi cardini del confronto fiorentino tra C agricoltori italiani della Toscana e la Regione. Abbiamo rappresentato al Presidente Gianni e alla Vicepresidente Saccard di quelle che sono le problematiche più importanti per l'agricoltura, quindi l'emergenza acqua, la redditività dei prodotti agricoli e il problema degli ungulati o comunque dei predatori in generale. Problemi che mettono in grave difficoltà la vita delle attività agricole per cui serve ovviamente uno scatto di energia, uno scatto di attenzione, uno scatto di risorse affinché le aziende agricole possano superare questo difficile momento. Si va verso il varo di un pacchetto di nuove misure a livello regionale, questo vi è stato assicurato? Sì, il 2024 sarà un'annata importante, ci sono risorse significative che la Regione ha messo in campo in aggiunta a quelle della Comunità Europea e su quel pacchetto di misure e credo che ci saranno importanti novità sia per quanto riguarda l'aspetto irriguo, già nelle prossime settimane dovrebbe essere inaugurato un altro pezzetto del distretto irriguo in Valdichiana, sia per quanto riguarda la filiera dei vari prodotti agricoli, cioè consentire l'agricoltore di avere una maggior redditività da quello che produce, perché oggi veramente le situazioni sono veramente complicate e difficili. Ovviamente sono le stesse priorità, le stesse tematiche che vengono portate sul tavolo dagli agricoltori indipendenti. Ma certo, gli agricoltori vivono tutti a contatto con la natura, con la loro attività, con il loro lavoro, quindi i maggiori costi energetici li hanno subiti tutti, il problema della burocrazia lo vivono tutti allo stesso modo, poi ci sono realtà più o meno grandi che subiscono maggiormente o meno le difficoltà economiche, ma in generale il quadro dell'agricoltura del 2023 è stato veramente, veramente difficile.